Ciao a tutti, bentrovati, vediamo subito una nuova partita qui sull'eChess, è il mio avversario molto quotato 2654 e cerco di giocare in modo creativo. È una partita che ho già giocato qualche giorno fa, come sempre nella descrizione del video troverete un link che vi rimanderà al gruppo studio sull'eChess, vediamo un po' com'è andata. Se dovessi dare un titolo a questa partita direi senz'altro gioco creativo, dinamico, pieno e ricco di tattica. D4, cavale F6, C4, D5. Premessa, questa spinta ha tratti e dubbia soprattutto a livello amatoriale, nel senso che questa spinta permette al bianco di conquistare con molta facilità il centro della scacchiera con la semplice cattura. Qualora il nero decida di catturare il bianco con la spinta in E4 avrà sicuramente un controllo totale del centro e come dicevo prima a livello amatoriale questo potrebbe già essere l'inizio di un grande vantaggio. Non è facile continuare con il nero, questo cavallo dovrà andar via e qualora si sposti qui il bianco con molta facilità porterà i pezzi verso il centro e se il bianco gioca con molta attenzione vi assicuro che otterrà sempre dei vantaggi. La premessa dovuta perché a livello un po' più alto, quindi a livello professionistico, partite tra maestri, una posizione del genere porterà un gioco molto complesso e ricco di colpi tattici da parte di entrambi. E per questo motivo, dato che la cattura l'avevo già trattata in un precedente video, ho deciso di giocare questa mossa, cavallo C3. Cavallo C3 minaccia la cattura, cavallo C3 qualora il nero decida di giocare G6 avrà un rientro, un'apertura molto più nota quale l'apertura Grunfeld. Il mio avversario ha giocato C6 e adesso si va verso un binario molto più conosciuto perché dopo C6 siamo nell'apertura slava e su cavallo F3 siamo verso una delle linee principali. C'è da dire che il mio avversario, dato che ha giocato delle mosse molto particolari prima, non si tira indietro e continua a giocare linee minori e mosse meno comuni. Questa spinta in G6 non è senz'altro la migliore delle continuazioni del nero però ha una continuazione interessante. L'idea facile, fianchettare, arroccare e poi cercare di interrogare il bianco lì al centro con possibili catture, ad esempio di questo pedone. Alfiere G5 la mia mossa, alfiere G7 e adesso sono io che volevo sorprenderlo e quindi ha giocato la cattura del suo cavallo e dopo la ripresa il cambio al centro per giocare donna B3. Questa idea da parte del bianco è tematica ogni qualvolta questo pedone non si è difeso da due pedoni quindi ricordate questo concetto e quasi sempre risulta essere una mossa vincente qualora il vostro avversario abbia già sviluppato in apertura l'alfiere di case chiare. Il nero qui ha bisogno di difendere il pedone centrale e quindi decide di farlo con la spinta del pedone in E6. La premessa qualche minuto fa dicevo ok se dovessi dare un titolo a questo video probabilmente darei un titolo di gioco creativo, gioco dinamico, gioco tattico e a tal proposito ho giocato la spinta in E4. E4 è un'idea molto interessante e però vi assicuro che è un'idea molto complessa perché manca quest'alfiere di case nere che potrebbe supportare l'attacco del bianco. Qualora il nero decida di catturare il cavallo riprende voglio prendere quest'alfiere però c'è da dire che il nero potrebbe anche darlo tranquillamente arroccando e la posizione che verrà dopo è una posizione in cui il bianco a tratti soffrirà per via di questo pedone che è rimasto da solo. Il tipico pedone isolato che in più delle volte che spesso è un problema. Tornando alla partita il nero ha deciso di arroccare. A questo punto E5 giustifica la spinta in E4. L'alfiere torna in fianchetto e dato che la premessa volevo giocare in modo creativo ho deciso di giocare questa spinta. H4 un pedone laterale che cerca di conquistare spazio cerca di andare in avanti per dare fastidio al nero cavallo c6 sulla scacchiera pedone H5 si insiste e adesso visto che da bianco voglio cercare in alcuni casi la cattura in altri la chiusura di quest'alfiere cercando di sotterrarlo ad esempio sotterrarlo il più possibile lasciarlo qui vincolato all'angolo in H8 con chiara difficoltà di essere riportato in gioco. Dopo H5 il mio avversario ha giocato F6 che potrebbe essere una reazione logica. In fondo il bianco è rimasto con il re al centro, il bianco è ritardo di sviluppo e quindi l'apertura del centro è senz'altro qualcosa di molto comodo e lineale. Pedone per g6 il nero riprende e dopo donna c2 iniziano le prime minacce. Tutto contro il pedone g6. Donna e8 difende e alfiere d3 ripropone un nuovo attacco, un nuovo attaccante proprio contro questo pedone. Tuttavia la mossa cavallo b4 che io avevo già considerato crea un attacco alla donna e all'alfiere e chiaramente sono due possibili catture che purtroppo per il bianco sono mosse che danno scacco quindi da bianco non voglio e non ho la possibilità di giocare intermedi interessanti come la cattura semplicemente perché cavallo per c2 scacco il re, il nero ha vinto e allora al tal proposito ho giocato donna d2. Pedone per e5, mossa logica, si deve e si cerca di aprire il centro della scacchiera, il cavallo riprende lì verso il centro e a questo punto alfiere per e5. L'alfiere di fianchetto sappiamo o comunque dovremo sapere che è sempre il miglior difensore e il pezzo più importante che ha un giocatore ogni volta che crea proprio in apertura un fianchetto. Quindi darlo è molto impegnativo. Se lo diamo dobbiamo essere certi che la posizione che abbiamo ottenuto sia una posizione corretta, comoda, facile da giocare. Non è per nulla così perché attenzione che questa torre che dal nulla si trova in una situazione di attacco semplicemente dalla posizione iniziale in coordinazione con la donna potrebbe minacciare matto. Donna f7 è la sua scelta e arrocco lungo per me. A questo punto da bianco sto semplicemente minacciando donna h6. In caso di cattura di semplificazioni con cavallo per d3 la donna riprende e anche qui sto minacciando il raddoppio delle torri. Questa è una posizione della quale sono certo il bianco riesce a vincere. Sono certo al 100%. Donna per f2 è la mossa del mio avversario invece crea una tattica veramente bella e quindi vi invito a cercare questa tattica, magari mettere in pausa il video e chiedervi come il bianco riesca a creare scacco matto. Non so se avete messo in pausa il video, comunque lo scacco matto in quattro mosse che crea il bianco è molto facile da trovare. Per quale motivo? Sono mosse che danno scacco. Io do scacco a re, lo mi cattura, do scacco di donna, lo si sposta e a questo punto cattura il pedone nuovamente con scacco. Il re si sposta e dal nulla il bianco è in grado di creare questa batteria sul punto h7. In caso di torre h8 il re si sposta anche qui ci sono tanti modi per ottenere vantaggio. Il re in f7 va verso un gioco più sicuro però purtroppo per il nero ha creato un'interferenza di difesa tra torre e donna. Quindi la semplice donna per f2 porterà uno scacco matto o comunque sia ad ogni modo un vantaggio importante. Questa è una partita molto breve e anche molto dinamica soprattutto dal punto di vista di creazione di piani in attacco e spero che vi sia stata utile per la vostra comprensione del gioco. Ciao a tutti e alla prossima!